Nuova mirrorless canon, full frame, EOS R. Ora è uscita anche la nuova EOS RP, la sorellina più piccola ed è ovviamente un disastro. Colleghi di ben altra levatura rispetto a me, insomma, stanno inondando il web con alcune considerazioni che è difficile non condividere, è davvero difficile. È incomprensibile come nel 2018... Questa la faceva la Sony, non la faceva qualche civiltà extraterrestre. Schermo completamente orientabile, 24 fotogrammi al secondo, stabilizzatore d'immagine, certamente non sul sensore, comunque era uno stabilizzatore d'immagine. Ingresso e uscita audio, che, insomma, insomma, robe pazzesche. 2001. 2001 c'era già tutto, la tecnologia c'era completamente, Canon, Sony, basta, giustificazioni. Io credo che prima o poi arriverà uno tsunami che andrà a colpire i grandi produttori Canon, Sony, Panasonic, Nikon, soprattutto i più grandi, e questo tsunami arriverà sotto forma di un nuovo produttore, out of the blue, dal nulla, che inizierà a dare ai clienti quello che veramente si aspettano. Vogliamo un file con una bella colorimetria, ma vogliamo anche una serie di accessori, la stabilizzazione, lo schermo orientabile, l'ingresso e l'uscita audio, eccetera, insomma, le cose più rilevanti. Molto spesso quello che ci sentiamo rispondere, in mancanza di una o dell'altra caratteristica che ritenevamo importanti all'uscita di una nuova macchina, è che c'è un limite tecnologico di qualche tipo. Ci sono alcuni ingredienti fondamentali che nel 2018 dovrebbero essere ormai comuni, non dico a tutte le macchine, ma quasi, soprattutto da un certo livello in su. L'esempio che stiamo facendo si rivolge alla EOS RP, che è appena uscita e dalle specifiche risulta avere alcune lacune che sono, a dir poco, clamorose. Manca sempre qualcosa da ogni macchina, pur essendoci la tecnologia a portata di mano, nel senso che tutte le cose che mancano sono in realtà disponibili, praticamente sempre. La sorella più piccola della Canon EOS R ha alcune lacune, chiave, comprensibili? Assolutamente non comprensibili. Qualcuno potrebbe provare a spiegarle, ma sarà difficile che il cliente medio possa capire le ragioni di alcune scelte. Quello che c'è da augurarsi è che in un qualche primo firmware, qualche aggiornamento, possono certamente essere messe a posto se è volontà di Canon. Vediamo nel dettaglio quali sono queste due o tre cose assurde che speriamo vengano risolte nella EOS RP. In sostanza sembra una M50 full frame, alla quale però hanno deciso di staccare qualche pezzo. Primo traguardo straordinario, aver tolto il 24p, che voglio dire ci vuole un bel coraggio. Hanno tolto il 24p sul full HD, lo trovate soltanto nel 4K sulla EOS RP. Nel caso vi foste fatti l'idea di utilizzare il 24p per avere un look più cinematografico, toglietelo dalla testa perché non c'è. Uno dice vabbè, però il 24p sul 4K c'è. Sì, però sul 4K non c'è il dual pixel autofocus che abbiamo lasciato soltanto sul full HD. Però ha un bitrate molto elevato. No, all E non c'è. Sì, però sulla EOS R c'è l'adattatore per cui posso utilizzare tutte le lenti. È vero, sulla EOS R. Se lo fate però sulla EOS RP, le lenti EF-S vi riserveranno qualche sorpresa. Non possono essere utilizzate al 100%. Lo slow motion, lo slow motion non si mette più, nemmeno a 720p. Quindi, se per caso aveste avuto voglia così di fare uno slow motion, anche se a 720p che non è il massimo, niente, non c'è più. E già tenete conto che, come per la EOS R, ha un crop importante sul 4K, il che naturalmente non aiuta. Insomma, bel pasticcio. Canon però. Se non vi siete ancora iscritti al canale, questo è il momento di farlo. Se volete commentate sotto, mi interessa conoscere la vostra opinione. Alla prossima.